Sono 55 i nuovi casi di positività in Abruzzo, su un totale di 1.151 tamponi analizzati, 4,7% di positivi sul totale. Un leggero decremento dunque rispetto alla giornata di ieri, nella quale i positivi erano stati 91 su un totale di 1.274 tamponi analizzati, 7,1%. Con questi nuovi numeri il totale dall'inizio dell'emergenza sale nella nostra regione a 2.667 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel Laboratorio di Riferimento Regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. 318 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 35, meno 3, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.714 più 10 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 271 pazienti deceduti, più 8 rispetto a ieri, 329 sono i guariti, più 42 rispetto a ieri, di cui 163 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 166 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 29.906 test, di cui 22.194 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 238 si riferiscono alla ASLE Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 613 alla ASLE Lanciano-Vastochieti, 1.190 alla ASLE di Pescara e 626 alla ASLE di Teramo. I 55 casi di oggi invece si riferiscono 1 alla ASLE Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 7 alla ASLE Lanciano-Vastochieti, 47 alla ASLE di Pescara e 0 alla ASLE di Teramo.